Sai Eleonora, io ho un po' forse imparato a conoscermi, io sono praticamente sempre un po' insicura, ma perché ho paura di farmi male, perché io tengo tantissimo a lui, forse in 43 anni sono davvero innamorata, non so dirti. E quindi ho sempre paura, è come se mettesi sempre tra me e lui una sorta di muretto, come se sempre avessi paura. E quindi sì, anche le mie amiche che hanno vissuto con me dalla fine 2020, la situazione mi dicono tutte, Sonia ha cambiato tantissimo i tuoi confronti, stai serena, io mi sento serena solo quando sento te. E quindi grazie, sono contenta, noi teniamo sempre, come vedi, per meno una volta al mese io ti chiedo sempre una stesa, e poi piuttosto più in là adottiamo un qualcosa sempre per tenerlo a me, insomma. E ti ringrazio, non finirò mai di ringraziarti perché tutto questo è merito tuo, grazie, grazie di cuore. E ti confermo i suoi problemi di soldi, assolutamente sì, ne ha di diversi, tanto è che anche io non sono messa bene, però le vacanze praticamente le ho quasi pagate tutte io, ha un sacco di problemi. Vorrei poter fare qualcosa però, io più di quello che sto facendo non posso.